Raga, in questo video sono con Gaia, che è tornato alla vita degli youtuber e faremo un video particolare. Infatti, ogni kill che farò mi darà un bacio. Prima un bacio sulla guancia, poi un bacio stampo, poi un bacio in bocca di un secondo, poi di due, poi di tre. Quindi spero di fare tante kill, chiaramente. Ehi, lo sapevi che se premi il tasto del like diventa blu? Provaci anche tu adesso! E non dimenticare di iscriverti al canale, perché ho scoperto grazie a YouTube che la più della metà delle persone che guardano i miei video non sono iscritti al canale. E non dimenticare di usare il codice OctiPFI nello shop di Fortnite. Ultima cosa velocissima, seguimi su Instagram OctiPFI perché ogni sera chatto con alcuni fan, quindi mi raccomando non perderti questa occasione. Ma detto ciò, andiamo subito al video. Per l'occasione ho preparato una bella skin, cioè un bel setup di skin. Infatti, come vedete, ho il ranger dell'amore, con la mimetica dei cuori, con le ali del ranger dell'amore, col piccone del ranger dell'amore e anche con una scia dell'amore che dopo vedrete. Anche se qua di amore non ne abbiamo. Ah, tra l'altro sono curioso di sapere, voi vi fidanzereste con Gaia oppure no? Se sì, dite il vostro Instagram qua nei commenti così Gaia magari scrive a qualcuno di voi e poi io vi retaggo. A quanti scrivi di loro? Cinque facciamo. No, dieci. Dieci, dieci, ok, dieci. Raga, Gaia scrive a dieci di voi che scrivono il loro Instagram. Tanto lei cerca un moroso. Allora, ora dobbiamo buttarci da qualche parte, Gaia. Dove posso fare un sacco di kill per ricevere un sacco di bacini? A fattoria, no, non è il mio posto. Allora, facciamo... Ma le kill dei bot valgono? No. Come no? No. Dai! No. No, come no? No. Allora mi butterò a siepi, che ne pensi? Non ci sarà nessuno. Meglio vuol dire che così mi equipaggio per bene e poi sarò più pronto dopo. Meglio per me? No, meglio per me vorresti dire. No, meglio per me, non ti devo baciare. Ma tu vuoi farlo? Dammi un bacino. Dammi un bacino. No, non hai fatto una kill. Dammi... No! E io che cercavo di ingannarla, raga. Oh, sì! Un pompa verde, sai cosa significa questo? Un pompa tattico verde, come direbbe Erika. Allora. Verde. Un pompa tattico verde, esatto. Però non è l'unica arma che ci serve, ci serve minimo un altro R, perché è senza un R. Guarda questo gnomo, anche lui vorrebbe un bacino da te, lo sai? Non penso. E io penso proprio di sì, invece. Cosa miglia? Eh? A me? Perché ho la barba e sono un figo della madonna? No, anche lui è un figo, dici. Oh, dici perché usa il codice A.P.T. fino a lo shopper. Perché usa il codice A.P.T. Ah, ok, allora è tutto più chiaro. Eh sì. Vabbè, vabbè. Hai sentito che mi hanno sparato? No. Come no? No. Non l'ho sentito, non l'ho mai fatto, se ti ricordo. Mi sa di aver beccato un bot. Sì. Dammi un bacino subito, let's go. No, era un bot. Non me ne paga niente, era un giocatore. Dammi un bacio, forza. E il primo l'abbiamo fatto e ora si va ai prossimi che sono un po' più piccanti. Che cosa guardi? Che cosa guardi? Concentrate sul gameplay che qua devo fare un sacco di kill. Guarda come ho vinto anche... Tu devi concentrati. Ci prepariamo alla... Il carciofo. Non ce l'ha. Signori, mi tiro il medkid mentre qua lui combatte contro i miei cloni. Io me la passo bene. Recolgo i carciofi, il nemico non si sa dove sia finito. Sono curato del tutto. E il nemico è qua? E qua è il nemico! E qua è il nemico! Adesso hai mai idea questa? Sì. Facciamogli esplodere la... No, no, materiali! Ma dov'è sto nemico? No, queste situazioni un po' ambigue non mi piacciono. Raga, c'era un nemico. Sai cosa mi aspetta ora? Un bacio a stampo, signori! Il bello è che lei dice all'inizio No, non ci sarà nessuno da quelle parti. Due kill. Io lo sapevo, io lo sapevo. Il ranger dell'amore porta fortuna. Oh, 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 signori. Raga, non ci credo che ho fatto due kill così. Non ci credo mai. Questi nemici si vede che vogliono farmi far dare i bacini da Erika. Sicuro, sicuro. Ah, raga, un like se anche voi... Da... Da... Da Jess, come ti chiami? Gaia. Ah, anche voi, raga, un like. Coach, supporta, creatore, occhi, pepi, se volete un bacino da Gaia, Erika, Giorgia, Giuseppa. Giuseppa. Ah, quello che è? Allora, allora. Non fare l'arrabbiata. Dai, non vedi che sono sconcentrato? Perché mi sto concentrando sul portare un gameplay di qualità? Ma sì, è uguale. È una delle tante. Ah, che male, accidenti. Stai buona. Ok, fammi raccogliere i cauli e fammi andare in safe. Dai, dai. Dobbiamo concentrarci, che qua altrimenti non faccio più kill. Io voglio il limone da tre secondi, minimo. Quindi devo fare altri tre kill, capisci? O non capisci? Mi capisci? Vedi che sto farmando materiali. Sai perché sto farmando materiali? Perché quando fighterò, siccome io sono un pro player dei fight, perché uso il co-chock tpfi. Ovviamente. Ovviamente. Ehm... Chiaro. Chiaro? Farò più kill, capisci? Certo. No, l'importante è che lo capisci. Lo capisci? Ok. Ok, ok. No, l'importante è questo. Cioè, se tu mi dici che tu lo capisci, allora io vado in safe e faccio un altro kill. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Dove siete nemici dei miei stivali? Dove siete? Tu vedi nei nemici, devi dirmelo. Perché poi io faccio un sacco di kill. Così, se tu mi dici, guarda, ci sono nemici, io vado, li pusho e li uccido. Eh no, non te li dico. Eh no, me li devi dire. No, non te li dico. È parte della sfida, scusami. Eh, ma non te li dico. Magari muoio, se muoio, cosa succede? Devi darmi una penitenza se muoio e non vinco la partita. Però devi darmi un super premio. Ti tocco una tetta. No. Come no? No. Se vinco. No. Tipo, puc. No. No? Da che pancina se vuoi. No. Ti do una schicchera sul naso. Ti faccio... No, no, mi fa male. Come, dai. No. A Borgo Bislacco per forza c'è qualcuno. Sei d'accordo? Beh, lo dovrai essere anche perché... Poi sono problemi tuoi. Cerca scatola di municione. Eccolo lì, l'hai visto? Sì, l'ho visto. Molto bene. Signori, prossimo nemico. Andiamo a pushare. E tra l'altro ho visto anche una jump. Quindi anche se sta scappando lo raggiungiamo. Accidenti. Avanti. Eccolo lì. Easy! Easy! Sai cosa significa questo, Gaia? Un limone di un secondo. Forza! Basta. Basta. A me era un secondo. Vabbè, un secondo. Cioè, deve essere molto veloce. Eh, vabbè. Altrimenti scusami, eh. Ho capito che ti piace, ma devi aspettare un attimo. Allora. Allora, allora, allora. Proseguiamo, proseguiamo. Vai. Tanto io la vinco. Cioè, forse tu non hai capito. Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, sì, va bene. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Sento dei nemici provenire da quella direzione, ma... Allora, ti dico, vedi che c'è... Che c'è la jump e che c'è la safe. Io sono fuori safe, accidenti. Ah-ha. Ora prenderò la jump e andrò in safe, allora. Ok. È quello che fanno le persone fuori safe. Certo. Eh, allora andiamo. Allora. Uh, ma guarda che qua c'è del materiale, però, eh. Ma da un casino di tempo? Eh, perché non me l'avevi detto? Perché non pensavo di servire? No, giusto. Non mi servono materiali e munizioni. Dopotutto siamo in un gioco dove servono. Vabbè, non importa. Ho capito che lo fai solo per farmi... Non farmi fare le kill, ma tanto io ti ho fregato. Ok, let's go. Eh, adesso fai tanto la sapiente, ma in realtà... Allora, un bacino a stampo per il lama, per forza. Un bacino a stampo è sulla guancia. Va bene, allora un bacino sulla guancia a stampo. Ok, va bene. Eh, beh, raga, con la fortuna di trovare un lama, seguito da un airdrop subito dopo. Perché avevo visto l'airdrop sul lama, ho detto... Andiamo di là e poi ho visto il lama e ho detto... Allora, allora, allora. Ho detto proprio... Ho detto proprio... Ora mi tirano una cechinata in testa, te lo dico. Pronta? No. Che cavolo ridi? Ma lo spieghi? Cioè, non capisco... Non capisco perché ridi. Non lo capisco. Cosa c'è da ridere? Boh, vabbè. Allora, continuiamo, continuiamo, continuiamo con la nostra sfida. Però qua non ci sono nemici, regà. Non ci sono. Non trovo mai armi buone. Ho sempre questo vampa da inizio partita. Diamine. Attenzione. Attenzione. Non farti vedere subito, no? Eh, ormai mi ha visto. Ma che cavolo? Ma era in testa quello! Oh, yes! Bacino, bacino, bacino. Basta. Il bacio peggiore della mia vita. E tu me l'hai dato al peggiore della mia vita. Eh, vabbè. Per forza non posso dartelo bello, altrimenti ti abitui troppo bene. Aspetta un attimo. Devo tirarmi questo shield. Ok. Glue, glue, glue! Sono tutto bagnato con questi sguazzi trangugini. E ora ricarico queste munizioncine. And let's go! Allora. Siccome... Woohoo! Easy! Lanciamo via questo. Prendiamo il pesce. Il pesce mi sembra molto più buono. Sinceramente. Sì. Allora, vediamo un po' Non ci sono altri nemici? No, dai, io devo fare le kill Ok, 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 ok Let's go, let's go Ok, non ho nemici nelle immediate vicinanze, capisci? Sì Ok, meglio che tu lo capisca Raga, siamo in endgame finale Sette persone di cui uno io, quindi sei rimanenti Se vinco, te lo dico, eh Una schiccara sul naso o mi fai toccare la teta con un dito Decidi Non ci siamo, eh, non so parlare Oh, nemico Non so parlare 96? 96, Ned? Non so le cose scelte, non è mai in endgame Eh sì, e beh, vedo che hai capito, eh Vedo che stai capendo proprio bene Sì, ma l'intento è di prenderle Oh Kovacs, man Andiamo Lui vorrà curarsi, ma noi glielo lasceremo fare E guarda quello che parte, per forza Oh Yes Yes Dai, bacino tre volte Ok, basta Basta, basta, basta Allora, attenzione Eh vabbè, sono orribili, ma sono i baci veloci Quelli da challenge Signori, siamo a 5 kill Che loro avrebbero mai detto che per una sfida del genere hai fatto così tante kill e così tanti bacini Beh, non è finita la partita ancora Non è finita Sei pronta, Gaia? Sei pronta? Devo capire dove sono i nemici 25 25, ok Ah, la mettiamo così tizio a caso, eh Ora gli farò un no-scope Che ne pensi? Dice che ce la faccio? No, 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 no Oh Dai, vieni qua Vieni qua, vieni qua Basta Basta, basta, basta Devo concentrarmi sulla partita Hai ragione Allora, 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 allora Basta, 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 basta Allora Hai visto che pompa che aveva questo? No Come no? Il pompa vi ho Uh Questa jump potrebbe essermi molto Ma sei pazza? Ah Ma questo come è riuscito a Vieni qua, vieni qua, vieni qua Basta, 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 basta Siamo a 5 adesso, cavolo, accidenti Oh, guarda che qua sto macinando di kill Sono un mostro? Raga, ma sono il pro player No, no, voi no però Voi no No Non fai niente il jump e batte Se ne hai fatto il jump, usa Non voglio batte No Allora, su stare, sono molto pronti i cosi Fanno un sacco male questi batte Oh mio dio Ma che Ma ci credi? Ma ci credi? Ma che cos'è? È l'ultimo aggiornamento? Che cavolo che ti pushavo? Io Io l'ultima volta che li avevo incontrati Loro ti guardavano E stavano lì con le manine Senza fare niente Ma che cavolo raga? Si vede che usano tutti il concio Ti ho tbfi i predoni Per forza Ma che cos'è? Grazie a tutti.